Ciao a tutti, sono Chiara Bergonti, ho 34 anni, faccio consulente, trainer e rooster del caffè da circa 9 anni. Ho vinto in Italia tre anni consecutivi campionati italiani di latte art, nel 2014 sono arrivata a seconda al mondo e ad oggi sono giudice internazionale del circuito della World War II. Ciao!